L'isola è su Canale 5 in prime time, lunedì e giovedì e day time, dal lunedì al venerdì alle 16.30. Su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle 13 alle 18. Su Mediaset Extra, con materiale inedito, dal lunedì al venerdì. Sempre connessi con l'isola con Mediaset Play. Naufraghi, sto arrivando! L'isola dei famosi. Ogni lunedì e giovedì, in prima serata, su Canale 5. Aspetto!